Non può di certo passare inosservato, qualcuno tra gli arzignanesi più curiosi lo ha già testato in prima persona dopo il primo tocco lasciato al sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua, appena ultimata all'installazione nella centralissima piazza Marconi. L'infopoint elettronico e digitale è stato attivato ed è a disposizione di tutti i visitatori quando torneranno, ma anche i cittadini attraverso il pannello che sfrutta la tecnologia del touchscreen installata su un totem ben visibile nello spazio pubblico e che consente di visualizzare in tempo reale informazioni utili e una serie di immagini della città del grifo e delle sue attrattive utilità. Dotato anche di uno spesso vetro a prova di vandalo, meglio non testarlo sul campo e antiriflesso, il totem sorge in prossimità dell'edificio che ospita la culla della cultura della città, la biblioteca civica dedicata a Giulio Vedeschi. Con qualche tocco digitale potrà offrire mappe, servizi, orari utili e itinerari a chi desidera consultare il consulente virtuale. Tra i servizi da spulciare è anche alcune curiosità, il meteo, l'oroscopo ad esempio, oltre alle notizie d'attualità. Un software mirato consente la riprogrammazione, l'integrazione delle informazioni che contiene per mantenerlo sempre aggiornato. Accesso libero e uso gratuito.